ritorna l'appuntamento con i libri ritorna tra le righe ho il piacere di avere nei nostri studi ormai un amico di padre pio tv perché con lui abbiamo già presentato un libro che ha come protagonista la creatività lui è dondino mazzuoli in arte dindon art ciao dondino ben trovato grazie grazie ormai mi sento un po a casa è se un po a casa mi sento veramente un po a casa iniziamo questo percorso insieme che una casa bella possiamo svelare i nostri certo che si dobbiamo ecco che prossimamente ti vedranno alle prese lindon art arriva a padre pio tv carta colla forbici per dare davvero sfogo alla creatività e alla fantasia dedicato ai più piccoli e bambini ma anche grandi che si vorranno cimentare con idee creativi con materiali nuovi da scoprire tante cose che meraviglia allora sei con noi in questa settimana per presentare un tuo libro che diciamo anche un po la creatività come protagonista ma a cominciare dalla copertina che ho realizzato ah e tu a molto bella trappi degli strappi che che riportano un po quella che la mia esperienza cioè il marrone della terra il blu del mare il giallo del sole il segno questo rosso che un po la linea quella linea sottile che unisce tante storie di demarcazione in un segno edito dalla san paolo e leggo in quarta di copertina per ogni partenza c'è una valigia da preparare la nostra è la valigia degli artisti di quegli uomini e di quelle donne che dicono ogni giorno il loro sì al meraviglioso disegno di dio disegno che può essere la vocazione disegno che può essere la vocazione all'arte ma disegno che può vocazione che può essere anche disegno anche quello di una mamma o di un papà un libro che si adatta perfettamente alla vita di ognuno questa è un po la tua storia è così è bello quando un libro sa raccontare anche la storia degli altri è un bello quando un libro racconta anche le vite degli altri e penso che in questo libro sia riuscito proprio a fare questo le tante persone che l'hanno letto mi hanno detto è stato bello ritrovarmi in alcuni passaggi in alcune bellezze anche in alcune fragilità anche in alcuni momenti difficili quando un libro fa questo racconta non solo la mia vita ma racconta la vita di un mondo che cammina di incontri di storie è un libro è il libro che ci appartiene diventa un po di tutti questo era un po il mio il mio intento si comincia proprio con una valigia una valigia da preparare che è quella dell'artista una valigia su cui in cui mettere tante cose da cui toglierne altre è fondamentale partire partire da questo il togliere il mettere sempre una situazione di disagio anche di sofferenza però bisogna osare avere il coraggio di farlo e quindi inizia questo percorso mi piace mi piace definirlo come un piccolo viaggio che comincia nel cuore ma nel cuore termina anche quindi un viaggio che inizia e finisce in quella dimensione meravigliosa che il cuore dove ci sono incontri dove ci sono volti e in questo libro c'è un po tutto questo oltre alla mia esperienza poi creativa che che mi appartiene sono sacerdote anche per questo non potrei essere diversamente è bello quello che tu dici e ti è mai capitato di avere la cosiddetta sindrome del foglio bianco sai quella che colpisce un po gli scrittori che magari non sanno davanti a un foglio bianco si te si sentono in difficoltà anche per gli artisti a volte proprio proprio uno dei capitoli si intitola proprio in un foglio bianco è proprio il momento in cui l'artista si trova davanti questo nulla questo momento in cui poggiare il pennello e dare vita a qualche cosa che prima non c'era e da quel momento trova vita da quel momento deve diventare espressione di quello che si è espressione di un pensiero per un artista penso che sia di grande responsabilità dare inizio a un lavoro perché in quel momento non si racconta solo la propria storia ma si mette in atto qualche cosa di più importante che sono dei processi anche interiori fondamentali che ognuno di noi dovrebbe fare l'ansia degli inizi è un po ci accomuna un po tutti quanti in tutte in tutte le realtà dalle piccole cose alle grandi alle grandi situazioni quello di iniziare però è proprio da quel nulla da cui viene tratto qualche cosa di importante che si comincia a crescere dio fa proprio questo nella creazione fa proprio questo dal nulla tira fuori fuori qualcosa di meraviglioso fino all'apice che la creazione dell'uomo quindi mi rifaccio un po a quella che è la primordiale opera di dio che quella della creazione per partire e allora vedrete che un foglio bianco ci ci fa sempre meno paura anzi diventiamo anche artefici di qualche cosa di bello piccoli capitoli ma che ci permettono di fare dei piccoli passi tutti divisi ogni ogni capitolo potrebbe essere una storia però alla fine sono uniti da questa da questa linea rossa che li che li unisce che non è nient'altro poi che che l'amore di dio che questo segno e mi piace anche il titolo del capitolo 3 ma io non so disegnare quante volte della nostra vita abbiamo pronunciato queste parole o quante volte le abbiamo sentite pronunciare peggio ancora quante volte ce le siamo sentite dire è stato così anche per tante volte e ho fatto di questo però un punto di forza quando facciamo della nostra fragilità anche delle nostre mancanze un punto di forza è il momento in cui veramente cresciamo partire da quello che che siamo poi fondamentalmente la nostra vita tante volte ci creiamo degli degli stati troppo alti vorremmo essere qualcosa che non siamo e quindi passiamo la vita a districarci in questo vorremmo essere vorrei fare era passiamo in feda infelici perché fondamentalmente poi non ci riusciremo per tanti motivi per i nostri limiti per quello che poi non siamo fondamentalmente e partire da questo invece ci aiuta veramente a crescere sotto questo sotto punto di vista e le insicurezze che abbiamo ricevuto da piccoli su quel io non so disegnare oggi le dobbiamo far diventare un punto di forza io me lo sono sentito dire tante volte però mi sono esercitato ho lavorato tanto poi alla fine ho raccolto quello che che ho costruito piano piano e giorno per giorno ma grazie anche agli altri grazie anche alle tante persone che mi hanno voluto bene che mi hanno sostenuto che mi hanno incoraggiato cominciare dalla mia famiglia i miei amici insomma tutte le persone che hanno fatto un cammino con me e qui ci sono tutte che ci sono veramente tutte magari non ci sono i loro nomi ci sono i volti storia storia le paure quando ci si coinvolge ma soprattutto si crede nelle proprie capacità tutto è veramente possibile addirittura tutto può cambiare eh sì questo è un po l'inizio del capitolo numero 5 la fragilità delle idee di carta beh così come la fragilità che a volte ci troviamo a vivere ogni uomo ogni donna vive la carta è questo materiale che io fin da piccolo tenuto tra le mani fin da piccolo ho tagliato incollato ricostruito quando ero piccolo ricordo che tanti tanti momenti tante giornate anche tanti tanti attimi della vita me li sono costruiti proprio con la carta sono stati veramente un momento importante e alla carta devo molto perché devo devo forse anche la mia vocazione perché ripeto sono sacerdote anche per questo aspetto e in questo aspetto creativo la carta è fragile perché si strappa facilmente però se lavorata se piegata se amata anche in un certo senso da veramente tanto e in quella carta noi dobbiamo mettere un po della nostra vita un po della nostra storia i libri sono di carta e sui libri ci sono storie sui libri vengono raccontate le emozioni vengono raccontate i momenti positivi della della vita che le di sofferenza però è fragile e questa fragilità è un po quella che ci appartiene tante volte e cadere nel baratro del dei sensi di colpa del dell'inedeguatezza è un po tipico della 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 persona umana oggi noi siamo chiamati invece a fare di tutto questo dei punti di forza veramente dei punti di forza e la carta mi ha mi ha aiutato tanto in questo veramente tanto don nino è nata prima la tua passione per la creatività che poi ti ha portato alla scelta vocazionale poi a sua volta hai potuto come dire ridisegnare attraverso questi laboratori creativi che appunto questo questo format che poi è diventato anche un format di indon art è tutto collegato tutto un disegno certo certo che si rientra tutto veramente in un disegno ma non fatto di matite di pastelli e di colori rientra in un disegno più importante che è l'idea del del disegno che dio aveva nella nella mia vita io ho detto di sì semplicemente ho detto di sì è quasi ad una condizione ho detto di sì partendo da quello che sono non posso essere diversamente allora la mia risposta è stata veramente un un dire sì con quella consapevolezza che che adesso sento nella mia vita con quelle certezze anche con quei dubbi che ogni tanto affiorano che fanno parte della nostra umanità e della nostra fragilità però dire sì e aprirsi anche alla creatività io il mio ministero lo esprimo così lo esprimo attraverso la carta attraverso il riciclo creativo un'altra dimensione che mi piace molto i bambini vanno educati anche a questa attenzione a quella del dell'ambiente sentire che un ambiente ci appartiene è importantissimo e quindi i bambini vanno educati anche sotto questo aspetto e la creatività in questo mi ha aiutato veramente tanto e allora è diventato questo pensiero più che libro perché è veramente piccolo tanti mi hanno detto si legge veramente in una in una sera però io vi invito a ritornarci sopra perché sono veramente tanti pensieri che ci danno la possibilità di riflettere su su altre situazioni più importanti della nostra vita è un libro che va ripreso in piccoli dosi anche a distanza di tempo è un libro che magari può anche possiamo anche non seguire no il filo dei capitoli l'ordine assolutamente ma anche aprire così a caso e magari c'è una parola una frase che certo certo aprendo il libro pochi minuti prima che cominciassimo questa conversazione e l'occhio è caduto è il caso di dire sul capitolo 6 maria ceca caduta nel pozzo alzarmi non posso tiratemi su era una canzone terribile adesso lo posso dire che ci cantavano che ci cantavano da piccole anzi era un gioco che nasceva proprio da questa paura era verso la fine degli anni ottanta e nel mio paese rifiace il manto stradale paesino piccolo fatto di poche cose quindi iniziarono un giro di camion ruspe tutti attratti da questa cosa e alla fine della strada fecero questo muretto alla fine del muretto c'era un pozzo di scolo alto circa 3 metri naturalmente i nostri giochi si concretizzavano tutti intorno a quel pozzo era diventata un po l'attrattiva del momento nostri genitori contrarissimi alla cosa iniziarono a tirare fuori questa leggenda nel pozzo il pozzo era abitato da maria ceca allora iniziarono a iniziamo a definire questa maria ceca che era un po questa donna io me la immaginavo senza capelli perché se le era strappati con questo maglione rosso perché una volta affacciando mi vedi un pezzo di stoffa rossa chissà chi gliela aveva portato voi e quindi iniziamo a costruire questa maria ceca e lì sperimentai per la prima volta la paura veramente una paura che era presente nella mia vita una paura continua e quando ripenso alle paure di oggi quando rivedo le paure di oggi rivedo tanto di quella paura di ieri tanti anni dopo nella spianata di tor vergata qualcuno ci disse non abbiate paura di quell'invito io ho fatto un po una testimonianza tanti giovani ne hanno fatto un po lo stile della propria vita e allora veramente ancora oggi quando faccio la mia passeggiatina quando torno a casa riguardo dentro quel pozzo lo guardo in maniera diversa però con gli occhi con gli occhi con gli occhi cresciuti con gli occhi di un altro tempo e posso dire veramente che la paura non esiste adesso la paura è qualche cosa che qualche volta la definisco come una donna che sta lì zitta silenziosa ma non perché perché vuole essere umile come maria no non c'è niente a che fare la paura con maria è una donna che sta zitta perché non ha veramente nulla da dire alla nostra vita la paura noi non dobbiamo avere la forza di fargli dire niente questo è importante grazie per questo messaggio grazie per averci regalato queste parole che appunto vengono racchiuse sintetizzate nel tuo libro in un segno edito dalla san paolo a firma di dondino mazzoli in arte di non arte che ritroverete prossimamente ci rivediamo prossimamente qui su padre pio tv quindi cominciate a preparare carta forbici e colla perché la creatività soprattutto è fantasia quella non deve mai mancare per bambini ma anche per gli adulti assolutamente guarda mi troverai in prima fila a seguire questo appuntamento grazie ancora grazie a voi tutti per averci seguito